Ti piace Rovigo tutta addobbata per Natale? Carina, molto carina dai, abbastanza carina. Faresti, metteresti qualcos'altro in più? Ah no, guarda, penso che sia sufficiente così Rovigo, mi sembra addobbata abbastanza bene dai. Un bell'albero, un bel babbo Natale? Abbiamo già tutto, tutto ok. Speriamo che la gente comunque riprenda a uscire e si viva un Natale migliore e anche più tranquillo e sereno rispetto agli altri anni, speriamo bene. Aggiungeresti qualche decorazione in più? Sì, all'albero di Natale gli aggiungerei la punta e poi metterei qualche pallina e decorazione in più appunto per renderlo più carino e anche più armonioso. Rovigo, adobbata, così mi piace moltissimo e mi fa piacere che abbiano allestito la piazza in tema natalizio che è una bella cosa, il Natale dobbiamo sentirlo nel cuore prima di tutto. Aggiungeresti qualcosa alle decorazioni? No, io penso che vada bene così. Che era ora, è bellissima. Aggiungeresti qualche decorazione in più? Sì, più lucette. Sull'albero o per la città? Entrambe. Grazie. Quando è il Natale, quindi luce ovunque. Per illuminarla? Sì. Grazie. E anche un po' più di gente? Giusto. Beh, è sempre una bella atmosfera dopo l'anno scorso che non c'è stato nulla, non si è potuto fare nulla, è una bella iniziativa poter ripartire. Aggiungeresti qualche decorazione in più? No, direi che va bene così, va bene così, anche troppo per quest'anno. Stile Natale. Proprio oggi facevo un giro, ho detto mi prendo il mio tempo prima di prendere la mia bambina e vado un po' a osservare. Diciamo che forse è ancora prestino, però il calore proprio del Natale in questo momento non vedo, non si sente. Speriamo che tra qualche giorno, con l'8 di dicembre, si prenda un po' la situazione. Speriamo bene dai. Speriamo bene dai.